per assistere alla seconda giornata di torno del campionato di Serie A Paschide Giro di Cigi, partita tra Iulio Rosano e Valentino Ferrello Benevento Annunciamo le formazioni che stanno versendo il campo cominciando, come sempre, da Gliosto assieme a Benevento con i numerosi in Pettini numero 22, 16 numero 22, 17, 17, 8 numero 26 Sardini Bambu, 39, 21 numero 27, Dautes numero 27, Dautes con i 13, 15 numero 10, 4, 8 numero 21, 9, 30 numero 9, più più allenatore di Stato Giorgio Arba Nasta numero 2, passiamo numero 16 numero 2 numero 2 numero 2 numero 2 numero 3 numero 3 numero 3 numero 3 numero 4 numero 2 Nel più seguito il campo, il numero 5,,,Finto, Vinto, 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 Finto, Sardegno, Polo Su, Vinto, Domino Camion, Dino amwagate ai signori, un piano di morte e gio. Pronto ai signori, Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie! Voi non lo serve io! 20 secondi! Come cosa? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.